Fermi tutti, parla Zorro Boban e quando parla Boban lo si ascolta, se ne parla, si discute e si tira anche una riga con un bilancio. Ben ritrovati come state, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui se lo avete ancora fatto, attivate la campanella numerosissimi. Che cosa dice Zorro Boban alla gazzetta? Che con il Milan è ancora in tribunale, però il Milan è sempre il Milan. Su Fonseca bisogna dargli tempo, ma quello che mi preoccupa è che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare solamente con il 4-3, cosa che andiamo a dire da tanto tempo. Così le mezze ali possono dare equilibrio e aiuto agli esterni superoffensivi come Leao e Pulisic. Rennes non può giocare a due e mezzo, Loftus non è un creativo per fare il 10, cosa che invece lui era. Sono due mezze ali, sono dei cursori e portatori di palla, non veri organizzatori di gioco. Fonseca all'inizio è intelligente, spero si possa correggere perché al di là dei risultati il problema è il gioco che per ora non esiste. Poi Teo e Leao hanno sbagliato e poi hanno cambiato la gara, spero si sistemi tutto, sono dei bravi ragazzi. Zlatan è un genio, lo ringrazierò a vita perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rosso-nera. Detto ciò, ora non ho capito cosa fa. Cosa fa? Quali sono le sue responsabilità? Quali sono le sue competenze per poterlo giudicare? Spero le abbia capite lui perché alla fine sarà lui quello giudicato, non Moncada. Resta il fatto che la squadra dello Scudetto e della semifinale della Champions League è stata imprudentemente smantellata. Su quelle basi si poteva costruire tanto, per me è stato un errore madornale. Non le manda a dire Zvonimir Boban che poi dice Maldino, lo sento ancora, è un amico grandissimo, lo rimarrà per tutta la vita. Pertanto, che cosa dice che Fonseca deve giocare con il 4-3-3? Che smantellare la squadra dello Scudetto è stato un errore madornale e che Ibra, anche lui, non ha capito che fa. Che fa? Quali sono le sue competenze, dici? Dice, competenze. È una parola molto significativa. Fermi tutti, Paraboban, io lo ascolto e sono stra d'accordo. Un po' morbido su Teo Eleao, la liquida è in fretta, quello che hanno fatto i due è grave. Sul resto va giù duro e secondo me è più che condivisibile. Ditemi che ne pensate, da che parte state, qual è il punto in cui vi trovate d'accordo, quello magari un po' meno, se c'è. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi. Grazie, buona giornata.